Veneto Banca è in Atlante. Alle 18 si è chiusa l'offerta delle azioni per l'aumento di capitale a un miliardo. E il risultato è stato deludente. Appena l'1% è stato sottoscritto, ovvero 10 milioni di euro, dai soci. Così il fondo voluto dal governo, con intesa San Paolo e Unicredit, oltre a cassa depositi e prestiti, coprirà il restante 99% delle quote, ovvero 990 milioni di euro. Veneto Banca, come popolare di Vicenza, da oggi unita in un destino, che con tutta probabilità vedrà la fusione di quelle che sono stati i colossi economici del Veneto rampante, quello delle aziende vincenti e talvolta spregiudicate, ma anche delle imprese oggi pesantemente indebitate con la crisi. Una cosa è certa, con Atlante le azioni sono a 10 centesimi e non c'è il momento quotazione che possa smuovere il valore. Disperazione è carta straccia per gli azionisti che le possedevano quando sono arrivate a 41 euro. Speranza invece per quelli che le hanno acquistate perché consigliati. Sul fronte degli azionisti sono da segnalare due notizie molto importanti. La recente ordinanza del Tribunale di Venezia, che ha dichiarato nulli i finanziamenti baciati, e questa appunto è una notizia molto molto importante, e poi anche l'istituzione dell'arbitro finanziario a partire da settembre, a cui gli azionisti delle due banche popolari potranno fare i ricorsi. Finanziamenti baciati, ovvero soldi che la banca prestava perché il cliente comprasse anche o solo azioni della stessa, come garanzia di fidi o mutui. Di conseguenza se quest'ordinanza verrà confermata dalle sentenze, i debiti contratti appunto dagli imprenditori per acquistare le azioni verranno cancellati. Un'ordinanza che cambia non poco i bilanci delle banche. Sono degli importi assolutamente rilevanti perché Vicenza è circa 1 miliardo e 200 milioni, mentre invece Veneto Banca sono circa 300 milioni di euro. Valori che appesantiscono ulteriormente Veneto Banca, colpita da una costante emorragia di capitali. Da domani di fatto inizia l'inesorabile iter di ristrutturazione delle banche, con il nuovo padrone che non ha nascosto un piano di lacrime e sangue per sportelli, dipendenti e non solo. Inevitabili le ricadute su aziende, fidi e castelletti, colpito al cuore nella propria economia da un mandante ben preciso. La grande finanza ha messo la parola a fine alla vicenda, anche Veneto Banca come Vicenza diventerà di proprietà di Atlante e di conseguenza le banche spariranno sostanzialmente dal territorio. Grazie. 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 Grazie.